Buonasera, mi chiamo Daniel Argura, vivo qui ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Situazione coronavirus per il momento abbastanza tranquilla. Autorità locali che hanno implementato alcune misure di sicurezza, come per esempio la chiusura dei locali notturni, delle discoteche, delle palestre, delle spa e ovviamente la cancellazione di molti eventi sportivi e dei concerti. Per quanto riguarda policy aziendale per il lavoro da casa, alcune aziende ovviamente hanno implementato questa policy, ma non tutte. Io per esempio sono andato al lavoro tutta la settimana e solo dalla prossima settimana inizierò a lavorare da casa, ma a giorni alterni. Questo ovviamente potrebbe cambiare in base alle direttive del governo locale. Per quanto riguarda invece gli aeroporti, per esempio ad Abu Dhabi il Terminal 2 è stato chiuso per la mancanza di traffico aereo e molti colleghi, molti amici che lavorano nel settore dell'aviazione hanno un piano di volo praticamente completamente libero per il prossimo mese.